Siamo a Mandello Lario, all'imbocco del porto di Mandello Lario, siamo sulla punta detta del cannone che fa dire ad alcuni ad Alassio c'è il muretto, a Mandello Lario c'è il cannone. Ma siamo con Emilio Panizza, storico tipografo di Mandello Lario, ha stampato in particolare quest'opera principale della storia locale, Oppidum Mandelli di Vincenzo Zucchi. E approfittiamo per fare subito una domanda su questo cimeglio storico, questo cannone, che per alcuni risale addirittura alla battaglia navale del 1532, combattuta qui sulle acque antistanti Mandello, Gian Giacomo Medici detto il Medeghino e la flotta ducale. Ecco, però 1532, ma qui invece c'è una data del marzo 1925. Il cannone è qui dal 1925, quindi da quasi 90 anni. Perché signor Panizza è qui, è stato messo qui? Non so, guardi, è per volontà del signor Domenico Comini, l'aveva nel suo giardino, ha pensato di dedicarlo qui perché poi si stava meglio qui. Ecco, come vedi è molto bella la posizione ideale, altro non saprei dire, perché Comini Domenico è uno dei tanti industriali che hanno fatto e hanno creato l'industria Mandello come tanti altri. Sì, infatti nel 1960 una persona è andata a Mandello, ha detto Mandello è una miniera per tutto quello che è, i brevetti che ci sono, a parte Guzzi, così, veramente è una cosa eccezionale. Questo sinceramente non so da che parte arrivi, ecco, questo non, si potrebbe andare a cercare, vedere se c'è qualche cosa, o Primo Mandelli non so se ne parla, l'abbiamo stampato noi nel 90, ma non ricordo se c'era iscritto questo. Quella del 90, visto che abbiamo citato Opilum Mandelli, è l'ultima edizione? L'ultima, l'ultimissima giornata, ma l'ultima edizione, poi non si è più... Ecco, la prima opera di Vincenzo Zucchi risale a metà del Novecento, grosso modo. E nei primi Novecento avevano stampato il Resegone, la scuola tipografica di Rufanotrofio e loro avevano stampato questi qui, dopo altri, insomma sono cinque edizioni. Questo Vincenzo Zucchi non è uno Zucchi che è stato poi sindaco di Mandello, è uno dei tanti Zucchi. Zucchi, viene da Rongio anche questo, viene da Rongio gli Zucchi. Era una persona eccezionale, lavora in Motoguzzi, molto molto preciso, una persona valida, era molto valida, sapeva tutto e voleva bene a tutti, anche gli animali. Signor Panizza, lei ha menzionato Rongio. Rongio è uno dei rioni, usiamo, di una frazione alta di Mandello che è stato autonomo comune, assorbito da Mandello negli anni 28-30, negli anni della grande unificazione amministrativa che valeva anche per Lecco e per altre zone. Oggi si parla di allargare Mandello con Abbadia Lierna. Lei cosa ne dice? Sì, ma è ovvio, è l'unica cosa, perché si è stato detto che, sentito che di Erna voleva andare con Varenna, ma giuntamente tanti di Ernesi dicono, ma perché a Varenna? Varenna è bella, gioiello, però a Mandello è tutto. Già arriva a Mandello, come si dice, come Abbadia, oh signore, la fognatura collegata con Mandello, già da Lierna e anche da Abbadia. Quindi anche gli Ernesi stessi dicono perché andare a Varenna è bella, è tutta a Varenna, ma è solo un gioiello. Mandello c'è vita, c'è lavoro, infatti ringraziano Mandello perché l'hanno andato per tanti anni. Ecco, signor Panizza, noi registriamo questa intervista a cavallo fra due domeniche di importanti avvenimenti per Mandello Lario. C'è stato il 93esimo, il compleanno, 93 anni, 1921, di fondazione della Moto Guzzi, che ha onorato il nome di Mandello e dell'Italia in tutto il mondo. E siamo a pochi giorni, a pochissimi giorni, dalla giornata di primavera del FAI, che avrà come punto di riferimento Mandello, dove saranno spalancate le porte della Moto Guzzi, del suo museo, dalla Galleria del Vento, di tutti i modelli di moto vecchie e nuove che hanno onorato la moto dell'Aquila e verranno anche aperti dei gioielli storici e architettonici come la Madonna del Piume, San Giorgio e San Zenone. Sì, sì, infatti ho trovato l'altro giorno Gianfranco Scotti che stava appunto fino davanti a questi rapporti particolari. E allora cosa diciamo della Moto Guzzi che è stata al centro domenica e lo sarà anche domenica prossima? Una grande azienda? Dubbiamente che ha dato lavoro tanto e poi non solo il lavoro, il lustro, come puoi dire, una cosa eccezionale. Io ricordo da bambino, da ragazzo che sentivamo quando uscivano per fare la prova Tenni, Pagani, Alberti, i ragazzi a correre giù nella strada per fare via libera e facciano le prove. Il traffico che era era molto limitato. Ecco, dai Caramini fino quasi a Olcio alla via libera per fare le prove di queste moto è una cosa eccezionale. Un grande corridore come Omo Bono Tenni. Sì, sì, Tenni, Pagani, Alberti, sono i tre che abbiamo conosciuto e poi si fermarono a Mandello per le prove. Ecco, che mi hanno detto che quando erano qui a Mandello soggiornavano in un alberio qui vicino. A Giardinetto, o al Giardinetto o al Grigna, normalmente a Giardinetto, sì, sì. Una persona che assiste a questa intervista e che vuole venire a Mandello Lario, siamo all'inizio della bella stagione, della primavera, anzi di un'anticipata e eccezionale primavera, cosa consiglia di visitare? Oltre a quello che sarà possibile visitare, e lo abbiamo già detto, domenica, in questa bella iniziativa della giornata di primavera del FAI, promossa dalla delegazione di Lecco del FAI. E da visitare sono perché questo è accennato dal FAI, così. Poi portarsi su in alto nelle frazioni perché c'è da vedere qua. C'è la torre di Federico Barbarossa, su Arongio, ci sono tante cose da vedere. Poi la posizione è bellissima. È invidiabile e lo possiamo vedere anche questa mattina. Lago, montagna, lagrini, che è uno spettacolo, c'è la montagna che chiude lagrini, è una cosa eccezionale. Perché sono di Mandello, ma è così, e tutti l'apprezzano. Poi c'è da vedere tutto, basta camminare, voglio di camminare, si può osservare. Batti pensarà che nel lago, tra Lierda, a Mandello e così, la ONU abbiamo 53 d'arsene. Non sono poche, 53 d'arsene. Mentre tutto il lago di Como abbiamo 29 ville eccezionali, parlare in tutto il mondo, compreso la villa Faltkin-Mandello. E diciamo qualcosa anche su questa storica tipografia, fondata nel 1911, quindi ha superato il traguardo dei 100 anni, cartolibreria con tipografia, fondata da suo papà che si chiamava Giovanni Panizza, quindi una presenza storica nella Mandello di ieri e dei tempi recenti, dal 900 al 2000. Ha passato le due guerre, che io ricordo ovviamente, ma l'ultima guerra purtroppo ricordiamo che, nonostante tanti sfollati milanesi, le ditte, stavamo noi per conto perché a Milano era tutto chiuso, tanto per dire in tempo di guerra. E dopo, nel 1951 purtroppo è morto il papà, e nel 1952 io e mio fratello abbiamo continuato la tipografia. E nel 1952 abbiamo recuperato la prima macchina di Heidelberg, uscita automatica, e di lì abbiamo, io e poi il mio fratello seguì la cartoleria, io la tipografia, e mi sono dato ad affare. Ho comprato senza soldi in tasca, comunque ho comprato altre tante macchine, e mi piaceva molto. Mi piaceva le macchine in movimento, tanto è vero che quando ero ragazzo piccolo, e mio padre scendeva dopo cena a stampare, scendeva anch'io, in moto, e se si mi diceva, io mi addormentavo, quando veniva mia mamma a recuperarmi. Ma le macchine in movimento mi piaceva moltissimo, e io ho cominciato prima macchine, due, tre, quattro, fino a sei macchine, tutte elettroniche, ormai in ultimo. Purtroppo nell'11 abbiamo dovuto cedere per cose dolorose. Però è rimasta nella storia. Sì, e ho tante soddisfazioni, e ho tanto materiale che le do da vedere, da consultare. Complimenti e auguri. Grazie, grazie.